Quando finisce una storia, bisogna proseguirla con dolcezza, andare via in ginocchio, andare via pregando per chi non amiamo, per chi non ci ama più. Bisogna lasciare a tutti un poco del nostro cuore, tanto si riforma, non c'è da temere di restare senza. Bisogna essere clementi con i nostri errori se non vogliamo rifarli altrove.